Siamo in compagnia di Warren Mosler e abbiamo una domanda per lui dopo questo convegno. Dottor Mosler, un economista di caratura mondiale come lei, che cosa ci fa in Italia con Paolo Barnard in questo tour? Ok, Paolo Barnard found me. He discovered MMT, I believe, about three years ago and became a very serious student of it. He worked with me for, you know, many months on all the fine points and the logic behind it and he's just become as good as anyone with it. And I'm really proud to be here, out supporting him in his effort to bring full employment and prosperity back to Italy. Lui dice che tre anni fa ha trovato che Paolo Barnard divulgasse, promuovesse gli stessi elementi economici in cui lui crede, per cui gli si è avvicinato e ha deciso di supportarlo in questa sua campagna e anche perché lui onestamente crede che la prosperità e il benessere delle popolazioni debbano avvenire non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia e in tutto il mondo sostanzialmente. È vero che lei fino a poco tempo fa stava dall'altra parte della barricata? I've been doing this since what used to be called Mosler Economics, became MMT a few years ago, since 1919. In the meantime, I was running an investment partnership where I would invest money for clients and try and make a good return for the clients. And in 1997, I turned that over to my partners and I keep a 10% interest. It was a company I started in 1982 and I keep them current on market events and what's happening in the world. So I do the economic research for the firm. Dice che lui fino al 1993 sta facendo comunque questo tipo di lavoro e che comunque lui aveva sostanzialmente gestiva dei fondi di investimento per privati precedentemente e si accertava che questi fondi naturalmente generassero un profitto per chi aveva investito quel denaro. Dal 1997 ha venduto parte di questa compagnia e si è tenuto il 10% di interesse semplicemente in questo. E un'ultima domanda. La MMT, la Modern Money Theory, è applicabile anche per i paesi del terzo mondo? Yeah, I mean, MMT is applicable for the third world countries too or not? Yes, MMT describes the monetary system and how it works and what your options are. for a full employment and prosperity. Sure. Essendo una teoria, anzi una scuola economica che sostanzialmente si riferisce a una teoria monetaria, questa teoria monetaria può essere applicata in qualsiasi paese del mondo, perché in qualsiasi paese del mondo, in qualsiasi nazione del mondo c'è bisogno di prosperità e benessere, quindi questo sicuramente è applicabile. per cento. Lei negli ultimi almeno due anni è venuto parecchie volte in Italia, continuerà a frequentarlo nel nostro paese? In the last few years you've been to Italy quite a few times, are you keeping this attitude of yours or no? My what? Are you keeping this attitude of yours, coming to Italy and joining Italy and joining Paolo Varna? I mean, are we going to have a project on this or not? Yeah, well, I'm just very proud to be part of this effort and it's fighting a good fight right now to try and bring world prosperity before we destroy our civilization. What we're doing now is destroying the civilization. We're here making as big an effort as we can to try and reverse that. Sì, naturalmente sì perché il suo obiettivo primario è quello di contribuire allo sforzo di persone come ad esempio Paolo Barnard a sostanzialmente creare benessere e prosperità per le popolazioni del mondo ed evitare che le civiltà vengano distrutte sostanzialmente. Grazie, grazie al dottor Monsler. Thank you very much. Thank you. Grazie a tutti.